Era assente l'approvazione della variazione di bilancio il consigliere provinciale Enzo Varani della maggioranza, quali considerazioni si possono fare su questa assenza? È un'assenza che non era annunciata, il presidente del consiglio provinciale Pasquali aveva assicurato che il consigliere Varani sarebbe stato presente in aula. Ne prendiamo atto, riporteremo questa variazione di bilancio, credo, nel consiglio provinciale del 12 di luglio per la sua approvazione. I consiglieri Francesconi e Maserati avevano giustificato la loro assenza, quindi sotto questo punto di vista non ci sono problemi. Mi spiace perché è una variazione di 2 milioni di euro, che sono 2 milioni di euro per lavori pubblici, sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sia per quanto riguarda le infrastrutture e la viabilità. E in un momento di crisi come questo non approvare la variazione di bilancio significa impedire di cominciare questi lavori. Una decisione che era nell'aria, sebbene Varani non l'aveva preannunciata, quindi un gesto che lascia la mano in bocca, un gesto non propriamente corretto perché sapevamo che oggi il consiglio si basava su una persona, Varani aveva assicurato la sua presenza, poi scoprire che questa uscita all'improvviso del consiglio è un comunicato stampa già pronto, già confezionato, quindi era una cosa che aveva già preso questa decisione. Se l'avessi detto prima avremmo risparmiato i soldi di questo consiglio, avremmo risparmiato di chiamare gente, il lavoro di tante persone. Prendiamo atto che questa maggioranza su un argomento così importante come una variazione di bilancio non ha il numero legale. Adesso poi stanno cercando di parlare 20 minuti a testa regolamentari per allungare il brodo e far sì che dalle telefonate che partono freneticamente di qua e di là far arrivare qualche consigliere. Però il punto centrale è che una maggioranza su un argomento importante come la variazione di bilancio che riguarda tutto il territorio piacentino non ha allo stato attuale il numero legale. Se poi riesce a raccogliere qualcuno dalle vacanze o da un altro posto, però allo stato attuale non ha il numero legale. Questo è molto grave e noi non intendiamo fare da stampella una situazione di questo genere. Noi abbiamo un modo di fare politica molto diverso da quello dell'opposizione che parla, fa slogan su giornali e alla fine quando si tratta di cambiare finestre alle scuole della provincia, di fare atti che vanno nei confronti dei cittadini, gioca una politica sporca, esce in modo disinteressato dall'aula e questo è un atteggiamento di irresponsabilità. Io credo che seriamente un consiglio provinciale ognuno di noi ha un mandato per stare qua dentro, se poi uno esce così, tanto per far mancare il numero legale se ne assume una responsabilità.